Cosa vuol dire umanizzazione delle cure nelle parti oncologici? Significa fare in modo che i pazienti si trovano a proprio agio nel momento in cui entrano nel reparto oncologico e devono affrontare un percorso terapeutico. Significa trovare un ambiente familiare, un ambiente dove devi vivere necessariamente un periodo difficoltoso della tua vita, ma lo puoi vivere in maniera diversa. Quello che noi abbiamo ascoltato molto i pazienti che seguiamo con il progetto Viva e ci siamo resi conto che avevano, non chiamiamolo lamenteli, però avevano del disagio a volte nel momento in cui durante le loro sedute terapeutiche, quelle giornate sono particolarmente lunghe, diventano anche stenuanti e quindi sentendo, ascoltando i loro bisogni, abbiamo pensato che era arrivato il momento di parlare di umanizzazione e proprio delle cure. Oggi se ne parla molto in tutti gli ospedali e quindi la cosa più semplice che abbiamo fatto è stata quella di andare a parlare con i vari primari di Teramo, di L'Aquila e di Avezzano e presentare a loro il progetto che avevamo in mente. Ovviamente è stato accolto a braccia aperte proprio perché è una patologia, come sappiamo, che sta aumentando sempre di più e che colpisce sempre più giovani e quindi in generale tutti i tumori perché adesso abbiamo visto tanti linfomi, stanno aumentando tutti i tumori. Quindi abbiamo pensato di rendere accogliente il reparto, quindi colorarlo con quadri, ma anche con piccole cose, con piccoli, ecco, una tazza di tè, dei cioccolatini, proprio fare in modo che questa giornata, questa lunga giornata di seduta chemioterapica diventi un momento, non dico piacevole, meno difficoltoso appunto. In questa fase della propria vita, quando si affrontano questi momenti, è importante che nessuno si senta solo e quindi dobbiamo cercare di cogliere delle piccole avvisaglie che ogni paziente ha e cercare in qualche modo di sollevare il loro morale. Abbiamo in mente tante cose, ovviamente abbiamo bisogno di gente che ci aiuti, volontari, abbiamo bisogno di mettere una filodiffusione proprio nei reparti di oncologia, portare i colori, portare un po' di musica, ma musica intendo anche dire non solo con la filodiffusione, ma anche fare entrare dei musicisti con un violino, con una chitarra, un attore che legge una poesia, o un libro, una storia, oppure semplicemente delle donne che portano dei grandi cesti di gomitoli e iniziano a filare un qualcosa, a costruire un qualcosa, un percorso in fondo, come devono fare loro il percorso dei pazienti oncologici, che così diventa anche questo lavoro un percorso. L'umore aiuta tantissimo, noi l'abbiamo visto in questi anni, ormai dal 2019 lavoriamo sui pazienti e ci siamo resi conto di come, avendo un buon umore, come affronti diversamente la malattia. Ovviamente i problemi rimangono, però noi cerchiamo anche di farli riconoscere prima e quindi riescono ad affrontarli in maniera diversa. Grazie.